amici di tec macchie di nocchioteca eccoci qui in questo brevissimo video direttamente dalla mia macchina ormai vanno molto di moda questi vlog in auto ma in realtà questo non voleva essere uno di quel video però il poco tempo mi ha costretto uno a fare il video oppure appunto a farlo in questa maniera e quindi ho preferito farlo così brevi video per annunciare che domani 6 aprile anche noi saremo in partenza per londra grazie a huawei quindi andremo alla presentazione del nuovo p9 ormai se avete letto un po in giro si conoscono molte delle caratteristiche di questo p9 ma noi saremo lì per toccarlo con mano innanzitutto per mostrarlo per fare la nostra anteprima e per vedere se magari huawei avrà tenuto qualche asso nella manica e vedremo veramente di che cosa si tratterà quindi insomma seguiteci assolutamente su twitter su nocchioteca su tec macchie su youtube insomma avete un sacco di modi per seguirci e soprattutto mandateci eventualmente tramite tweet domande curiosità che vorrete vedere poi durante la giornata appunto di domani cercherò di scrivere il più possibile tramite twitter appunto novità quello che faremo gli spostamenti della ampia giornata e quindi insomma a domani domani mattina si parte presto qua da milano un saluto da francesco colonna per techmacchi.net ciao a tutti